E' di almeno 9 morti e decine di feriti, il bilancio provvisorio del terremoto di magnitudo 6.8 che ha colpito Impal, capitale dello stato indiano nord-orientale di Manipur tra Bangladesh e Birmania. Il sisma è arrivato prima dell'alba, molti residenti dormivano, i soccorritori sono alla ricerca delle persone intrappolate sotto le macerie. Abbiamo subito abbandonato la casa, tutti coloro che hanno casi a due o tre piani sono in strada e sono spaventati. Il terremoto è stato sentito anche in Bangladesh, Nepal e Myanmar. Alcune aree della regione sarebbero isolate e senza elettricità. Quando c'è stata la prima scossa aereo in casa, subito dopo sono venuto in ospedale per aiutare a gestire i soccorsi. Secondo alcuni testimoni, l'esercito è intervenuto scarsamente equipaggiato. Il sisma, il cui epicentro è stato localizzato a 35 chilometri di profondità, è stato causato dalla subduzione della placca indiana sotto la placca birmana. Grazie.